Dopo la lista completa di tutti i partecipanti al Mr. Olympia 2021 nella categoria Open, questa è la lista completa di tutti i partecipanti al Mr. Olympia nel 2.12, infatti non ci saranno più gare per la qualifica al Mr. Olympia 2.12, invece per le altre categorie Man Physique e Classic Physique ce ne saranno ancora un paio. Quindi questi sono tutti i qualificati che hanno vinto o un pro show o che sono arrivati qui nella top 5 all'anno 2020 e questi invece sono i tre qualificati tramite i punti. Il primo dei qualificati è Angel Calderon che ha vinto il British Grand Prix e anche il Romanian Muscle Fest, quindi ha tolto la qualifica ad un altro avversario. Angel è un atleta enorme, ma molto molto enorme, pecca un po' per quanto riguarda la schiena, però credo che farà molto bene quest'anno. Ovviamente c'è il campione in carica Sean Clarida, quest'anno proverà a vincere il titolo per la seconda volta, quindi vedremo come se la caverà a Sean Clarida quest'anno. Poi abbiamo Kamal El Garni, è arrivato secondo l'anno scorso e ha vinto nel 2019, credo che Kamal quest'anno non potrà riconquistare il titolo, anche se credo che farà un miglioramento importante. Se vi ricordate l'anno scorso dal 2019 al 2020 ha fatto un miglioramento incredibile all'età di 49 anni, credo che migliorerà ancora quest'anno, ma secondo me non vincerà più il titolo del 2.12. George Peterson nel suo secondo anno da 2.12, infatti precedentemente è graduato nel Classic Physique e al suo primo anno da 2.12 è arrivato terzo al misto Olimpia. George è un atleta che a me piace molto, ha ancora un po' di punti deboli sistemare, ma credo che se li sistemerà sarà molto molto imbattibile. Derek Lansford, credo che quest'anno Derek Lansford darà molto fastidio a Sean Clarida e potrà addirittura batterlo. Ha cambiato coach recentemente, ora sotto la guida di Annie Rambaud e credo che quest'anno Derek Lansford potrebbe addirittura abbattere Sean Clarida. Dopo il misto Olimpia del 2020 Derek pensava di passare all'open, come ha dichiarato in un'intervista nel podcast di Dennis James, era molto convinto di passare all'open, però quando è passato con Annie Rambaud, lui stesso appunto Annie Rambaud l'ha convinto a provare ancora nel 2.12. Derek Lansford è sempre stato uno dei migliori 2.12 negli ultimi 5 anni, ha fatto bene fin da subito, il suo primo misto è sempre levato quinto e poi per due volte secondo, quindi secondo me questo sarà un anno veramente importante per Derek sotto la nuova guida di Annie Rambaud. Quinto posto l'anno scorso Akhmad Ashkanani, Akhmad non è una terza che a me piace molto perché è come se fosse un blocco unico di muscoli senza linea e senza separazione muscolare, per questo non mi piace molto perché è una masso di muscoli appunto senza dettagli e separazione muscolare. Poi abbiamo Tonio Borton che ha vinto l'Indie Pro la prima gara del 2021, Tonio ha vinto la gara un po' sorpreso perché erano in pochi quelli che lo conoscevano, però devo dire che è stata veramente fantastica, una buona struttura, una schiena fantastica, pecca un po' per quanto riguarda la condizione, ma credo che se dovesse migliorare la condizione farà molto bene. Nathan Epler che ha vinto il New York Pro, anche se io in estremamente a quella gara l'avrei messo secondo dietro a John Jewett che è arrivato secondo, Nathan però è un'atleta buona, forse necessita un po' di massa, non so al momento quale sia il suo peso in gara, però secondo me necessita un po' più di massa muscolare. Dalla Polonia abbiamo Piotr Boreczki, penso di averlo pronunciato correttamente, un'atleta molto estetico, però secondo me anche con lui, come nel caso di Nathan, necessita un po' più di massa. Poi dal Brasile abbiamo Lucas Coelco che ha vinto il Portugal Pro, un'atleta veramente fantastico, molto known, però comunque riesce a mantenere un lato estetico, anche se ha grosse quantità di massa muscolari, mi piace molto, una buona struttura, una vita stretta, quindi un bodybuilder molto grosso, però comunque ha sempre quel lato estetico e credo che quest'anno la Mr. Olympia farà molto bene. Kion Pearson che ha vinto il Chicago Pro e quindi farà il suo primo Mr. Olympia a 2.12. Penso che Kion per quest'anno non potrà rientrare nei migliori 3, perché dalla sua ultima gara al Chicago Pro la condizione non era dei migliori, aveva dei femorali molto lisci e dei gluti che non erano per niente striati, e appunto sappiamo che la condizione è una cosa che conta molto nel 2.12 e che purtroppo Kion non ha, quindi secondo me per quest'anno Kion non potrà rientrare nei migliori 3, però in futuro se dovesse migliorare la condizione potrebbe anche vincere il titolo. Noel Adam che ha vinto una gara in Messico, non mi piace molto come atleta, perché ha delle gambe che secondo me sono molto molto sospette, soprattutto sul front sono molto molto sospette, quindi fatemi sapere se secondo voi le gambe di Noel sono sospette. Carrit Baio che ha vinto il Tampa Pro, non lo conoscevo questo atleta prima che vincesse il Tampa Pro, questo se non sbaglio sarà il suo primo Mr. Limpi, quindi bocca al lupo a lui. Poi abbiamo Ahmad El Sadani che ha vinto il Texas Pro, ed è arrivato secondo sia al Chicago Pro che al Tampa Pro, però alla fine ce l'ha fatta vincere un Pro Show. Ahmad è un atleta che adoro, ma lo adoro un sacco, quando posa, soprattutto in questo suo front double bicep, sembra quasi photoshopato, come ha detto Dennis James, perché ha delle masse veramente incredibili che sembra photoshopato, finché non lo si vede in un video, in una foto ufficiale, Ahmad sembra veramente photoshopato, una condizione impeccabile, una struttura veramente ottima, credo che farà bene a questo Mr. Limpia. Poi dalla Moldavia abbiamo Vlad Jakovlev, e ovviamente dall'Italia abbiamo Pasquale D'Angelo, sarà il primo atleta italiano a gareggiare al Mr. Limpia 2.12, in bocca al lupo veramente Pasquale, credo che al Mr. Limpia migliorerà ancora di più, perché come ho detto nello scorso video, Pasquale è un atleta che di gara in gara migliora sempre di più, è una cosa pazzesca, soprattutto alla sua età, perché ha 41 anni e di gara in gara continua sempre di migliorare, e credo che farà bene a questo Mr. Limpia, e quindi in bocca al lupo Pasquale. Alla fine John Jewett ce l'ha fatta a qualificarsi a questo Mr. Limpia, dopo molte gare ha fatto quattro gare, e non è mai riuscito a vincere nessuna delle due. John Jewett che non se la passa bene in quest'anno neanche al Mr. Limpia 2020, se vi ricordate nel 2019 era arrivato addirittura quarto al Mr. Limpia, poi nel 2020 andrà molto male, è arrivato se non sbaglio tredicesimo, e anche nel 2021 fa molta fatica a centrare la sua migliore performance di sempre. A me come atleta piace, lo seguo anche molto su Instagram, credo che la vita gli si sia allargata un pochino, ultimamente anche se non ha mai avuto una vita sottile, però ultimamente la vita gli si è un po' allargata un pochino, e anche la sua schiena non è come era qualche anno fa. Poi secondo dei qualificati tramite punti è Steve Bentin della Germania, buon atleta, una buona condizione che ha portato la sua ultima gara all'Europa Pro. E infine dal Kuwait abbiamo Naser Mohamed, che è arrivato se non sbaglio secondo al Portugal Pro. Quindi questa era la lista di tutti i partecipanti al Mr. Limpia 2021 nel 2012, sarà un Mr. Olimpia fantastico. Fatemi sapere chi secondo voi vincerà quest'anno il Mr. Olimpia 2012 e se Sean Clarida riuscirà a mantenere il titolo. Secondo me se lo sconterà molto con Derek Lansford, anche qui aspetterò un po' di settimane per fare, per dire la mia improbabile top 10. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se non siete iscritti iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video, hello guys! Ciao!